Si è tenuta ieri presso il Conservatorio di Santa Sofia di Monte Corvino-Rovella la prima edizione del premio Tina Romano. L'evento, organizzato dal Comune, ha visto la premiazione di alcune donne del territorio che si sono distinte nel loro campo e che sono motivo di orgoglio per la comunità di Monte Corvino-Rovella. Maresciallo Erika Di Maggio, professoressa Silvia Paraggio, direttore tecnico-restauratore Daniela Mellone, l'imprenditrice Carmela Magliaro, la studentessa Anna Chiara Magazzeno. Obiettivo dell'iniziativa organizzata dal Comune, raccontare l'universo femminile da più prospettive, partendo proprio dall'esempio di Tina Romano, prima donna montecorvinese ad aver partecipato attivamente alla vita politica locale. Sindaco, com'è nata l'idea di istituire il premio Tina Romano? È nato soprattutto per ricordare una grande donna che è stata la signora Romano, una donna che ha dato tanto e ha contribuito tanto per Monte Corvino-Rovella, ma soprattutto la signora Romano è stata una delle prime donne in politica nei Picentini e ricordare la sua figura rappresenta per noi un momento di grande importanza. È importante perché in questo modo diamo valore a quelle che sono le potenzialità del territorio, nei vari settori, il settore culturale, il settore sociale, economico, imprenditoriale. Quindi benvenga questo tipo di manifestazione intitolata quest'anno il primo premio alla signora Tina Romano che in passato, nel dopoguerra, si è da subito distinta in quello che era lo scenario politico, impegnandosi in prima linea, portando avanti un forte messaggio sia nel campo politico, sociale che culturale. Quindi chi meglio di essa può rappresentare la donna nei vari settori, dando quindi valore e dignità ai settori stessi. Quindi cinque premi a cinque donne che hanno dato appunto dei forti contributi affinché il nome di Monte Corvino-Rovella si distinguesse a livello regionale e nazionale. È importante perché la parola differenza è quello che caratterizza questo premio, nel senso che fin quando non ci rendiamo conto delle differenze che esistono tra i generi e non vengono recepite, quindi accolte, ci sarà sempre la sottolineatura di questa differenza. Quindi penso che al di là di tutto la giornata internazionale della donna, così come stabilita dall'ONU nel 1977, è importante per questo motivo qua, perché la parità di genere va garantita sempre e comunque e non è scontata. Oggi come oggi assolutamente non è scontata. Abbiamo ascoltato tutti il telegiornale in questi giorni, i femminicidi a Napoli, Messina. Sono cose che non vorremmo più sentire, eppure puntualmente si ripetono, sempre e comunque.